Un corteo funebre che ai tempi del coronavirus è vietato dalla legge, un assembramento che può sembrare spontaneo per la scomparsa di una figura stimata e amata dalla comunità, ma che in queste ore esplode come un caso. Medico sindaco, ex consigliere regionale Carmine Sommese, 66 anni, è nel triste elenco dei medici italiani caduti sul fronte del covid-19. Nonostante i manifesti funebre indicassero chiaramente l'impossibilità di cerimonie, nonostante in tanti in queste settimane siano stati costretti a salutare i propri cari senza neppure un saluto, le scene stridono con l'amara realtà dell'emergenza pandemia. La cronaca del funerale diventa motivo di presa di posizione, interrogazioni parlamentari e denunce alle autorità giudiziarie. Un dolore ulteriore per la famiglia e quanti l'hanno conosciuto. A Baiano, città nella quale Sommese risiedeva e dove la famiglia è titolare di una clinica privata, c'è stato il saluto al passaggio del feretro. Dinanzi alla struttura sanitaria i dipendenti si sono affacciati per rendere testimonianza a distanza. Così hanno fatto anche i sindaci del mandamento, giunti a rappresentare le comunità. Il corteo è proseguito a quanto si apprende per l'ospedale di Nola, dove Sommese lavorava, per poi approdare a Saviano. Qui, sia dinanzi al municipio partenopeo che verso il cimitero, l'assembramento, immortalato da video e immagini, è stato palese. Nelle scene si notano addirittura transenne, con tanto di nastro rosso, quasi si aspettasse l'arrivo di una folla di gente. La tromba intanto intona il silenzio, palloncini tricolori volano nel cielo, scroscianti applausi rendono omaggio alla salma. Non si ha notizia di constatazioni di legittimità da parte delle forze dell'ordine presenti al funerale. Sul web le foto e i video hanno scatenato immediate reazioni, rendendo ancora più triste. Un giorno che avrebbe dovuto essere solo di dolore e lutto.